un momento bravi e mi apro buono 12 vado se scegli tutti i lati facciamoli tutti si è rapido che abri bravi se buona degna e bravo len sta in movimento non molla francese selene dai daniel bravo dai 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 non mollate non mollate 30 secondi non dovete sbagliare pulito pulito si si